Sì, noi continuiamo l'incontro che stiamo facendo con voi telespettatori. Oggi presentiamo la prima parte della squadra amministrativa che vuole portare avanti il nostro programma Idee per il lavoro. Io ho alla mia sinistra l'attore e scrittore Roberto Nobile, poi la dottoressa Vania Orecchio che è esperta di politica del lavoro, la dottoressa Carmela Nicita che è ricercatrice e l'avvocato Cesare Borrometi. Buongiorno, io mi chiamo Roberto Nobile e quando mi hanno offerto la possibilità di fare l'assessore alla cultura a Ragusa mi sono fatto due domande. Una, ma io sono capace? E due, chi sono queste persone che mi offrono questa possibilità? Per quanto riguarda la seconda domanda ho telefonato e parlato con dei vecchi amici miei del liceo, persone che adesso hanno anche dei posti di responsabilità in città, persone anche di opposta posizione politica e tutti mi hanno parlato molto bene di Giovanni Iacono, lo hanno descritto come una persona con cui io posso lavorare e identificarmi, competente, seria, onesta, corretta e appassionata. La seconda domanda che mi sono fatto era ma sarò capace? E poi mi sono detto vabbè io quello che posso fare nel caso che avessi questo incarico di andare a cercare tutte le persone che si occupano di cultura a Ragusa dico tutte da chi ha una scuola di ballo o chi fa teatro o chi ha passione per il cinema, per la letteratura, gli insegnanti delle scuole per chiedere che cosa pensano loro della cultura, di quale strada bisognerebbe intraprendere, di quali sono i bisogni, le esigenze, le delusioni io penso di avere le competenze per fare le domande giuste credo e anche per dare concretezza o organizzazione a tutte le istanze che ci possono essere almeno questa competenza me la scrivo ma poi non vorrei dire che cos'è la cultura dei paroloni io penso che c'è la cultura della gestione del divertimento, dell'intrattenimento e si deve fare ed è giusto farla poi c'è una strada io credo che è quella della cultura a lunga scadenza di quelle che sono le linee, le direzioni, di ciò che si può fare perché la cultura si sedimenti e resti un valore anche nel tempo io penso che l'Italia in generale è stata governata dal dopoguerro in poi dai moderati e un po' cattivamente si potrebbe dire che i moderati hanno considerato il loro dovere morale dare il posto di lavoro al proprio cugino o alla moglie del proprio cugino piuttosto che a chi se lo meritava senza demonizzare tutto questo perché è inutile io penso che questo però ha portato a un degrado del paese perché sì, quando c'era il boom economico si stava tutti bene quindi che ci fosse un incompetente a dirigere qualche ente pubblico non era la fine del mondo tanto gli operai, i lavoratori e gli industriali producevano e adesso però c'è la crisi economica e c'è anche un paese che non ha, come posso dire, non ha forza, non ha coraggio ed è confuso anche per questo, per il fatto che nei posti di responsabilità ci sono molte persone che non hanno né passione né competenza allora la politica dei moderati può anche essere andata bene fino adesso adesso ci vuole uno scossone, non si può essere moderati e mi piace il fatto che Giovanni Iacono non sia un moderato Siamo alla fine della campagna elettorale siamo agli sgoccioli credo che ogni cittadino oggi come oggi si sta ponendo molte domande ancora ci saranno molti cittadini dubbiosi e penso di dover chiedere a tutti quanti, compresi noi di fare un esame di coscienza e pensare che il cittadino debba scegliere bene per la propria città perché la città è una cosa propria e come tale deve essere considerata come la casa, come la propria casa la propria macchina la propria famiglia tutto ciò che è personale così come abbiamo cura della nostra casa e di tutto ciò che ci appartiene dovremmo avere cura anche della nostra città e visto che appunto siamo alla fine cerchiamo di riflettere su questo per operare la scelta migliore una scelta che voglia significare una cittadinanza più sicura più protetta più tranquilla voglia sottolineare trasparenza nella pubblica amministrazione da qui infatti nelle proposte del programma di Giovanni nasce l'idea del piano di innovazione per la cittadinanza digitale con rete wireless essere sicuri di recuperare una migliore qualità della vita è importante ogni tanto pensare a noi stessi e a parte le facili promesse o i grandi progetti che si spera sempre di realizzare sono certa che con Giovanni Iacono avremo la certezza soprattutto delle azioni concrete che è un aspetto della politica che si sta sempre più perdendo quindi spero bene nella scelta oculata dei nostri cittadini grazie desidero condividere una riflessione con tutti voi che riguarda una frase che è attribuita a De Gasperi un politico guarda alle prossime elezioni e uno statista alle prossime generazioni io ho visto perché per confronto anche i programmi degli altri candidati sindaci e sono programmi interessanti però al programma di Giovanni Iacono dobbiamo legare un progetto un progetto che non è nato qualche settimana fa è un progetto che riguarda anche anni fa progetto di miglioramento di quello che è la nostra città una città in cui la cultura sia una una base fondamentale anche per le relazioni tra le persone in cui ci sia una vivibilità non solo ambientale ma anche relazionale e questo progetto ha portato Giovanni anche a delle battaglie a delle spesso in solitudine perché in Giovanni si deve riconosce l'avere la visione al di là di quello che può essere l'oggi ma ha una visione in quello che è il futuro il futuro delle nostre generazioni chi deve amministrare non può guardare solo all'oggi abbiamo bisogno di guardare al passato per non fare gli stessi errori dobbiamo guardare l'oggi ma per costruire un futuro e in questo io credo fermamente e per questo ho accettato anche di partecipare a questa squadra assessoriale io non ho avuto nessuna difficoltà ad accettare l'invito a far parte della squadra assessoriale di Giovanni Acono se anche non avessi fatto parte di questa di questa squadra avrei votato comunque per Giovanni Acono come ho votato per Giovanni Acono nelle tornate elettorali precedenti perché ho sempre apprezzato ed ammirato la sua coerenza la sua assoluta aderenza ai principi che ha espresso e il suo porsi in assoluto contrasto con tutti quelli che erano le tendenze dei poteri forti di tutte quelle amministrazioni che hanno portato Ragusa allo stato in cui oggi è e non è certo definibile in termini positivi ho votato per Giovanni Acono come penso anzi come sicuramente i dati lo confermano tanti tantissimi hanno votato per Giovanni Acono in precedenza e sono certo e sono sicuro perché di questo ho il polso e il riscontro tanti tantissimi continueranno a votare per Giovanni Acono che incarna e continua ad incarnare i valori del centro-sinistra senza con questo porsi termini disteccati ed avendo ampia disponibilità ed apertura verso chiunque condivida il suo elaborato programma che noi abbiamo contribuito per quel poco che ci è stato possibile a stendere questa possibilità mi porta a ricordarvi che in realtà al di là di tutti quelli che sentono che sento oggi parlare di voto utile il voto a Giovanni Acono è un voto utile non solo perché sicure sono le sue chance di successo ma perché l'utilità del voto sta nel riporre nel consenso al programma al progetto che Giovanni Acono incarna la adesione che col voto si esprime io per questo mi permetto di fare il politico più di quanto non la facciano i miei colleghi assessori designati invitando tutti a far convergere la propria preferenza sul nostro candidato sindaco Giovanni Acono grazie come avete visto è una squadra fatta da persone per bene che è la prima condizione e persone competenti ed è una squadra che si avvale anche di altre professionalità di altre persone per bene assieme a noi c'è come consulente a titolo gratuito l'architetto Marco Rosario Nobile che è docente di storia dell'architettura all'università di Palermo c'è Gianfranco Motta che si occupa di sviluppo economico che è stato presidente della Camera di Commercio che è stato presidente dell'ASE c'è la professoressa Flora Monello docente all'università c'è il musicologo e musicista Dario Adamo c'è la fotografa esperta animalista Franca Schininà e abbiamo una squadra di persone per bene abbiamo un metodo che abbiamo individuato che è il patto civico di cittadinanza noi vogliamo governare non solo per la comunità ma vogliamo governare con la comunità assieme alla comunità perché riteniamo che solo attraverso percorsi di cittadinanza attiva possiamo riuscire a risolvere i problemi siamo ottimisti in questo siamo ottimisti perché il metodo è quello corretto e perché vogliamo anche dare un segnale forte positivo sin dall'inizio e politico che è quello di istituire un dipartimento per lo sviluppo di comunità sarà il primo dipartimento di sviluppo di comunità in Italia in tutti i comuni d'Italia perché sin dall'inizio vogliamo investire molto sulla partecipazione dei cittadini sulla condivisione alle scelte sulla partecipazione civica sin da ragazzi e il programma si chiama Idee per il lavoro partecipiamo Idee per il lavoro per ogni area problematica abbiamo individuato tutta una serie di idee per il lavoro per il lavoro perché riteniamo che sia non solo l'emergenza ma sia il centro per ogni persona la centralità della persona perché dà dignità e quindi abbiamo anche in questo voluto dare un segno vogliamo partire da chi sta peggio degli altri vogliamo partire dagli ultimi e l'abbiamo fatto in questi mesi l'abbiamo fatto in questi mesi anche qui partendo con i problemi noi la storia di ognuno di noi è una storia di persone per bene e la storia è importante per poter avere il presente e per poter avere il futuro diceva l'avvocato Borrometi ho votato Giovanni A quindi io sono stato consigliere in questi anni sono stato consigliere di opposizione ci sono stato non c'è stato un solo problema di cui non mi sono occupato in queste città di cui non abbiamo tentato di dare ricette che sono state alternative rispetto a chi ho governato fino adesso ecco perché oggi ai ragusani noi in questi giorni abbiamo anche cominciato a spiegare attraverso questa emittente alcune delle nostre scelte programmatiche che sono scelte programmatiche forti innovative a cominciare dall'edilizia di qualità dal centro storico realizzato dal centro storico il cambiamento del regolamento per fare in modo che ci sia una edilizia una filiera delle costruzioni diversa che punte sulla biodilizia sulla città sostenibile che rimette in moto l'economia vogliamo fare a Piazza San Giovanni l'Accademia della Cultura e delle Arte siamo stati i primi già tre anni fa a fare una raccolta di firme perché il Palazzo Ina diventasse centro polivalente e polifunzionale dove giovani talenti di questa città in tutte le arti espressive possono trovare un luogo fisico dove ci sia uno spazio per i giovani uno spazio culturale uno spazio museale vogliamo fare diventare questa città la città dei parchi il marchio della città deve essere a Ragusa la città dei parchi in questo senso faremo immediatamente nel momento in cui dovessimo essere a capo di questa amministrazione delibere in cui si istituiscono dei parchi agricolo urbani e si allarghi il parco nazionale degli Iblei a Cava Misericordia tutto questo poi lo daremmo come concorso di idee noi vogliamo avere come metodo quello del concorso di idee in modo che tanti giovani possono lavorare possono partecipare al concorso di idee e con un concorso di idee la migliore idea premiata di giovani cooperativi di giovani gli affidiamo in gestione gratuita tutto il sistema parchi noi ci impegniamo a promuoverlo in tutto il mondo anche grazie a queste professionalità a queste personalità prestigiose che abbiamo in giunta a cominciare dal scrittore e attore Roberto Nobile chi ha governato fino adesso il Ragusa ha lasciato la città parafrasando Ungaretti come la bella poesia in cui diceva che si sta come d'autunno sugli alberi e le foglie questa è la situazione attuale di Ragusa noi vogliamo trasformarla questa situazione noi vogliamo trasformarla con un metodo con una squadra con una squadra di persone per bene e competenti con un candidato sindaco con un programma amministrativo che si chiama idee per il lavoro dipende da voi e dipende da noi il cambiamento ma il cambiamento non avviene se noi non vogliamo il cambiamento è il momento questo di avere il coraggio delle scelte che si chiama che si chiama che si chiama